Oggi è una giornata importante, 76 anni fa la Nakba, questa occupazione israeliana verso Palestina, i studenti hanno scelto una giornata importante per noi palestinesi, lo ringraziamo, dove c'è la possibilità di manifestare in maniera pacifica, c'è libertà, c'è la possibilità che aiutare i palestinesi che stanno soffrendo da 76 anni a sollevarsi e vedendo tanti giovani, sia ragazze che ragazzi, insieme, lottano insieme per questa libertà. Io credo che qualsiasi impressione pacifica che si può fare contro l'occupante ben venga, l'importante è che si fa in maniera pacifica per una causa pacifica, una causa giusta, la causa palestinese è una causa giusta, si sta lottando per la libertà da 76 anni, qualsiasi strumento pacifico ben venga.